persino il nostro regista vladimir è restato un po perplesso quando ho pensato di titolare questa volta la rubrica auguri antenna 2 auguri antenna 2 e lui è andato a cercare dice ma è la data di quando abbiamo iniziato le trasmissioni come radio come televisione sembra che la cosa non coincida non funziona quello sarebbe il buon compleanno comunque la faccenda dell'augurio viene dal fatto che questo invece è l'onomastico è l'onomastico di antenna 2 ma non solo ma comunque è l'onomastico il 16 maggio questa domenica si celebra la giornata delle comunicazioni sociali siccome antenna 2 è luogo e ambito e attività di comunicazione sociale con la radio appunto e con la televisione mi sembra giusto visto che siamo qua che facciamo gli auguri a tutti quelli che operano in questo ambito e stanno da diversi anni ormai da decenni portando avanti un servizio di comunicazione sociale che possiamo dire molto attento al territorio attento a una variante di messaggi proprio e anche direi con lo sguardo offerto anche alla nostra possibilità di arrivare attraverso la rubrica male nobiscum nelle vostre nostre case per un momento così di riflessione che ha come ispirazione di fondo anche il fatto evangelico cristiano ma che si allarga su tanti temi direi che una bella ospitalità di cui veramente siamo grati. Don Riccardo giornata della comunicazione sociale questo termine comunicazione direi non è una faccenda strana perché tutta la vita e tutta la storia praticamente è basata su questo la persona è in se stesso relazione comunicazione non per niente i nostri occhi guardano fuori le orecchie ascoltano fuori la bocca parla fuori è vero anche che dobbiamo pure raccogliere raccogliere ascoltare ecco perché la comunicazione non va soltanto in una direzione però sia che parliamo sia che ascoltiamo tutto è comunicazione è relazione questo mi pare avviene anche nella storia e la storia che è ricca anche dal punto di vista della strumentazione se vogliamo fare un po' un piccolo percorso dai tempi degli avi lontanissimi nei millenni fino ad oggi come la comunicazione si è sviluppata proprio perché è stata sentita come necessità da tutti gli uomini di sempre. Sì penso Don Leone che effettivamente si riconosce che la storia quando inizia la storia dell'umanità quali sono le cose più antiche si comincia quando si hanno i primi segni di comunicazione che con le immagini scolpite piuttosto che incise nella pietra ecco quando l'uomo appunto comincia a esprimere qualcosa di sé non solo magari con con la voce con i richiami così ma a lasciare il segno del proprio passaggio della propria presenza della propria intelligenza delle proprie scelte di libertà anche strumenti concreti che poi possono essere conservati e che mantengono vivo il suo messaggio anche dopo che tu hai lasciato questo mondo insomma e pensiamo alla ricchezza davvero della capacità di comunicare di scrivere o di fissare insomma questa comunicazione perché scrivere è uno dei modi su qualche supporto che ti permette di essere comunicativo ancora anche quando tu hai smesso di essere qui su questa terra quando noi ci confrontiamo con le grandi opere del passato è ovvio che non sono qualche cosa del nostro ingegno ma è qualcosa che arriva ancora noi grazie a chi ha permesso a questo di camminare la pietra la pergamena poi la carta ovviamente le varie invenzioni che hanno permesso di rendere più veloce più efficace questo comunicare questa trasmissione eccetera naturalmente all'origine l'uomo con la sua intelligenza con la sua parola con le sue mani operose eccetera ecco il comunicare che passa attraverso i sensi della persona che poi si strutturano appunto attraverso delle invenzioni che rendono possibile anche trasmettere ai non solo sull'immediato ma anche al futuro se veniamo ai nostri tempi ovviamente Don Riccardo la radio la televisione adesso vai avanti tu con i moderni strumenti perché tu sei giovanissimo e ci giochi dentro in modo molto efficace eccetera cioè cosa possiamo dire di queste cose nuove va bene che se ne dicono tante in peggio in meglio eccetera come possiamo porci di fronte a questi strumenti ma Don Leone non sono neanche un nativo digitale quindi cerco anche io di galleggiare un po' in questo mondo ma non sono sicuramente tra quelli più geniali da questo punto di vista però Don Leone pensa alla potenza dei mezzi che abbiamo che anche solo dieci anni fa sembravano fantascienza pensa dieci anni fa voglio dire per fare una trasmissione in diretta serviva qualche cosa di importante con una serie di strumentazioni di cose incredibili oggi con un cellulare tutti siamo diventati maestri nel fare anche nel periodo appena trascorso magari ci siamo dentro ancora in alcuni casi messe in diretta Facebook e con i pochi mezzi che abbiamo riusciamo potenzialmente ad arrivare in tutto il mondo ecco qualche cosa che anche solo un po' di tempo fa davvero sembrava fantascienza e oggi invece è qualche cosa alla portata di tutti ecco per dire che sicuramente questo nostro tempo ha visto una potenza nella comunicazione nell'efficacia nella velocità nella rapidità e anche nella potenziale diffusione che altri tempi non hanno mai non hanno mai conosciuto questo è un bene certo che è un bene ma come ogni cosa degli uomini può essere un bene può essere un male può essere usata bene può essere usata male non è il mezzo in sé che è qualche cosa di potentissimo è di stupendo è l'uso che ne fai che dice se è buono o meno buono su questi ricordi che porti avanti in questi tempi pensa quanti ammalati nelle case di riposo negli ospedali anziani che si sono sentiti un po' soli hanno potuto però comunicare hanno anche imparato un pochettino sono stati aiutati addirittura con il cellulare diciamo ma anche in video questo ha portato veramente credo in loro un soffio un momentino di fiducia questo poter comunicare la voce ma anche vedere i propri cari e i loro cari che non potevano accedere non si può accedere agli ospedali hanno potuto vedere e salutare appunto queste persone direi appunto la bellezza di questi strumenti quando vengono utilizzati bene qui però entra dentro il fatto che per questa giornata delle comunicazioni sociali il papa ha fatto un messaggio come fa sempre allora dice ma la chiesa vuol cacciare il naso sempre in tutte le faccende umane a parte che da quando dio si è fatto uomo in gesù cristo è chiaro che anche la chiesa che viene da gesù cristo mette il naso in senso vorremmo dire positivo in tutte le cose umane perché le vive cosa vuol dire il papa in questo messaggio per questa giornata delle comunicazioni sociali ma ti dirò don leone a volte i vari messaggi siccome sono anche tanti queste giornate sono tantissime magari gli si dà un po' un'occhiata veloce lo dico mia vergogna e per dicendo eh sì sì dai questa cosa qui o bene o male l'abbiamo già sentita niente di nuovo sotto il sole giriamo un po' la stessa minestra mi è piaciuto invece particolarmente questo messaggio perché è profondamente evangelico nel senso tu hai ragione la chiesa deve essere maestra di comunicazione proprio perché è la testimonianza di gesù cristo che è il comunicatore rivela il volto paterno di dio padre quindi è ovvio che la comunicazione è qualche cosa non solo di profondamente umano ma di straordinariamente cristiano perché fa riferimento a gesù cristo che è il grande comunicatore e che ti comunica quella dignità che hai la bellezza della tua libertà la possibilità di sentire che la tua vita appunto è qualche cosa di incamminato verso l'infinito verso l'eterno è qualche cosa davvero di grandioso ecco è bello perché il titolo è innanzitutto molto evangelico e vieni e vedi facendo un po' riferimento a quel brano del Vangelo di Giovanni dove si parla della chiamata dei primi discepoli no quando appunto Giovanni e suo fratello Giacomo vedono Gesù e gli chiedono maestro dove abiti e Gesù risponde venite vedete ecco Gesù non si mette a fare una conferenza su dire cosa vuol dire abitare dove abito guarda che ma dice vieni e vedi condividi ecco più che dare una risposta dare un indirizzo offre un cammino e quindi è bello che il Papa dice tutti quelli che sono impegnati un po' nella comunicazione devono sentirsi chiamati a mettersi in cammino a venire ad andare e a vedere quindi a valutare con la propria intelligenza a limitare la tentazione di rimanere dietro uno schermo leggere magari qualche cosa di preconfezionato che magari in alcuni momenti è anche rapido e veloce però alla fine rischi sempre di essere un po' un ripetitore di quello che agli altri vogliono farti vedere e invece ritornare un po' alla freschezza anche degli antichi se vogliamo cronisti che appunto taccuino in tasca matita e scarpe comode si va si vede si valuta si interpreta si dà un proprio giudizio quindi si racconta agli altri non qualcosa di raccontato ma qualcosa in cui tu hai messo dentro la tua libertà la tua ricchezza vieni e vedi applicato appunto ai giornalisti a tutti gli operatori della comunicazione con i vari mezzi eccetera qui interessante soffermarci un attimo perché in positivo troviamo veramente dei professionisti di livello persone che ci stanno dentro nelle cose nelle notizie che hanno a cuore l'umanità per dire come merita soprattutto con verità soprattutto usando intelligenza saggezza cuore umiltà e anche quel tocco di rispetto delle situazioni umane e se giriamo qui la frittata però cosa dobbiamo pensare parlano di fake news tu che sai l'inglese cioè invenzioni di sana pianta quando non diventano mormorazioni addosso le persone quando non diventano calunnie quando non diventano invenzioni di parole e di fatti appiccicati alle persone o agli eventi diremmo che purtroppo stiamo vivendo e il papa anche mette in guardia su questa faccenda qui come la comunicazione può diventare veramente un'arma che distrugge un'arma ambigua che rischia invece che di servire la verità e la giustizia di porsi all'incontrario. Ma Don Leone questo è sempre un rischio che c'è stato secondo me pensiamo anche solo le grandi aziende di comunicazione che ci sono nel mondo le testate giornalistiche piuttosto che televisive appartengono a qualcuno e quindi è evidente o purtroppo è un po' una una cosa brutta che tante volte tutta questa squadra di professionisti che magari lavorano in una testata in una realtà fanno un po' il gioco del padrone perché chiaramente non possono mettersi contro colui che o coloro che gli danno lo stipendio. Però anche qui quando questo poi va contro la verità capiamo bene che non si parla più di informazione ma diventa una controinformazione. Oggi poi con questi strumenti potentissimi dove ciascuno può diventare comunicatore è ovvio che se non si è retti e spinti anche dal desiderio di verità rischieremo davvero di essere persone che raccontano un sacco di scemenze, divulgano cose false o magari che comunicano con una grande banalità e oggi è un po' un grande rischio e ha converto Eco in maniera un po' snob diceva che internet è diventata un'occasione che ha dato diritto di parola a tanti sciocchi che altrimenti avrebbero fatto i loro discorsi al bar sport sotto casa e tutto si finiva durante un aperitivo e non c'era tutta questa risonanza. Ecco magari Eco era un po' snob in questo perché pensava di essere solo lui il grande comunicatore però effettivamente questo ci dice come tutti dobbiamo essere molto più attenti nel in quello che facciamo in quello che diciamo sapendo anche che tante volte magari una stupidaggine che tu di così distinto puoi scrivere su questi social può diventare come si dice oggi è virale magari ti fanno dire quello che tu non vuoi dire o comunque prendono una piccola parte o una immagine solo e stravolgono un po' tutto il senso delle cose è un rischio che c'è sempre stato in qualsiasi tipo di comunicazione ma oggi la posta in gioco è più grande proprio perché abbiamo a disposizione degli strumenti che sono molto più potenti. Ecco allora la chiamata del Papa vieni e vedi e si servo della verità e dell'umanità in una parentesi mi veniva anche da pensare tempo di comunicazione eccetera eccetera la chiesa diventa un pochettino in questo mondo della comunicazione tante volte un luogo dove effettivamente mi passi il termine c'è poca conoscenza se non addirittura molta ignoranza e speriamo non malafede nel parlare della chiesa non è che proprio la chiesa è trattata non deve essere trattata per carità diversamente dagli altri però a volte ho l'impressione che sia un po' mal trattata perché poco conosciuta nei mezzi di comunicazione. Ma sì anche qui il rischio c'è sempre di persone che magari non sono minimamente competenti e quindi si parte da piccoli dettagli che vengono ingigantiti e soprattutto mi sembra che una comunicazione sulla chiesa che non è capace di intravedere un po' il mistero della presenza di Dio che ci sta dentro questa storia pure fragile fatta di uomini fragili diventa qualche cosa che rischia di vedere la chiesa solo come un'organizzazione terrena e sei già fuori luogo insomma perché se la vedi solo come un'organizzazione terrena hai già perso quello che invece è il suo specifico quella che è la caratteristica che la rende vera che la rende straordinaria e quindi sicuramente anche qui ci vuole la capacità di saper vedere le cose con la certezza quella prospettiva storica che è cristiana che riconosce che nella storia degli uomini entra anche Dio in maniera silenziosa però efficace con la sua libertà e quindi anche qui diremmo servono proprio dei professionisti nella libertà per carità nella varietà del modo di pensare di leggere le cose ma anche un po' con quell'attenzione quel rispetto delle cose l'ultima nota la chiesa usa i mezzi di comunicazione tu tutte le domeniche predichi comunichi c'hai un bollettino parrocchiale sulla scena più grande pensiamo a figure di Don Alberione le edizioni San Paolo la famiglia cristiana il giornalino i tempi del vittorioso qualcuno se li ricorderà eccetera e così via madre un'altra grande rivista e così via pensiamo poi il nostro quotidiano direi nostro nel senso che è più attento alle faccende di chiesa l'avvenire che uno dei quotidiani oggi veramente meglio è fatti ecco anche la chiesa fa comunicazione usa strumentazioni e magari è chiamata ad essere un po' più professionale nel offrire anche questi strumenti a un mondo che oggi direi chiede qualcosa di più preciso e di ben fatto sia nella voce che nello scritto che nel video ma sì mi sembra che in questo la chiesa si sia sempre sentita anche impegnata alcune volte c'è un po' di improvvisazione alcune volte ci sono i nostri mezzi artigianali un po' nelle nostre parrocchie ma mi sembra che dietro ci sia sempre un pochino anche una grande passione di rileggere la realtà davvero dal punto di vista del Signore non per annacquare la verità ma soprattutto perché si possa intravedere anche e raccontare la cronaca anche con quell'attenzione all'umano con quel rispetto profondo verso ogni persona forse anche la più sciagurata sapendo che appunto il mistero di ogni persona è qualche cosa che è attraversato anche dalla presenza del Signore ed è bello vedere che comunque ci sono anche delle grandi forze e anche delle grandi professionalità da questo punto di vista Nei nostri paesi il notiziario parrocchiale un momentino questa nota perché anche a Villadogna c'è il notiziario parrocchiale Sì siamo un po' in un periodo di fatica è un po' che non sta uscendo il bollettino in questi mesi un po' per tante cose, un po' per la povertà di alcuni collaboratori però penso che un po' tutto il nostro mondo delle parrocchie con il notiziario non vuole solo fare un po' una specie di cronicon parrocchiale dove metti un po' di foto, racconti un po' quello che è successo ma alcune volte magari cerchi anche di sottolineare alcune cose di cercare di vedere la presenza del Signore anche nelle situazioni più faticose pur essendo sempre un po' una pubblicazione locale che quindi racconta un pochino anche le cose di casa nostra però sempre cercando di sentire la vicinanza e la presenza del Signore Potremmo dire notiziario o bollettino come lo chiamano ancora tanti per informazione, magari per dialogo e anche un po' per formazione perché credo che questo sia elemento oggi necessario e indispensabile in tutto quello che fa comunicazione che comunicazione deve giovare alla persona alla sua crescita umana, spirituale, morale e alla partecipazione e alla crescita di tutta la società e la comunità Andiamo a chiudere Don Riccardo perché noi in questo momento stiamo facendo semplicemente anche noi comunicazione è da un bel po' di anni che questa rubrica va in onda tutte le settimane i collaboratori che sono veramente da ringraziare per la loro disponibilità Antenna 2 a cui rinnoviamo appunto l'augurio per questo onomastico che ci ospita questo credo anche il grazie a voi che ci consentite di andare avanti perché pensate che questo nostro incontro settimanale un qualche piccolo servizio lo possa svolgere una qualche utilità per poter portare nella nostra vita e nelle nostre case qualche nota utile dal punto di vista umano ma un po' illuminato anche da una visione cristiana della vita Grazie Don Riccardo grazie appunto a voi che ci avete seguito anche stavolta come sempre l'augurio di una buona domenica